Siamo qui per parlare della donazione di midollo osseo di cellule staminali. Anche quest'anno il Registro Nazionale dei Donatori ha fatto la propaganda Match It Now nella settimana dal 19 al 26 di settembre, quindi settimana dedicata alla donazione di sangue e di cellule staminali, per poter stimolare comunque i giovani ad iscriversi al registro. Lo scopo di questa settimana è di sensibilizzare maggiormente la popolazione, anche se in realtà l'iscrizione può essere fatta durante tutto l'anno presso i centri trasfusionali, attraverso il sito dell'IBMDR, attraverso il sito di Admo, se sei una persona maggiorenne in età compresa tra i 18 e i 35 anni, in buona salute e pesi almeno 50 kg. Quindi il messaggio è chiedete informazioni, venite a trovarci, sia i volontari Admo, sia la rete nazionale IBMDR, è disponibile a dare informazioni, disponibile a permettere un'iscrizione online. Quindi se non ci avevi mai pensato è importante che ti informi, è importante fare un gesto per qualcun altro che ha bisogno comunque anche in questo periodo di pandemia, anche in questo periodo in cui in questo anno 2020 che è stato così particolare per tutti noi, in ogni caso la malattia, le le leucemie e gli infomi non si fermano, non si sono fermati nemmeno durante la pandemia nelle fasi più critiche e comunque i donatori sono sempre i necessari per aiutare qualcuno a guarire.